Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego come trovare quella puzzetta, scusatemi, foschia velenosa se volete anche uccidere questo cavallero uccidetelo, la posizione esatta è questa, mi raccomando guardate bene la mappa dirigetevi da questa parte, dovete trovare uno scarabeo che sta trasportando una palla di riccio fatelo fuori e vi darà quell'incantesimo una volta tratto quell'incantesimo, selezionatelo, provatelo, usatelo sui cavallieri, mostri, quello che volete ma dipende anche dal sigillo che avete perché se l'ho potenziato, io l'ho potenziato fino al livello 25 e fa veramente un botto di danno, è qualsiasi incantesimo che io usi qui è il posto esatto, adesso andiamo a provarlo vabbè, non fa un cranky, ma lancia una sottospecie di fosca, quindi la nebbia facciamo caso che lancia una polvere bella grossa qui nell'aria infettando quelli che stanno all'interno, capito? Tutto qua comunque se volete aggiungere questo incantesimo alla collezione, avete fatto e niente, grazie a tutti per questa visione lasciate il like, se vi è stato utilissimo sfogliate sul mio canale se c'è qualcos'altro che vi interessi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao